Il binacolo di Leonardo, questa via è veramente impossibile, riconosco. Che ne pensi? Ti sembra che abbiamo materiale sufficiente per incominciare? Sì, adesso mi manca una cosa sola. Devo trovare una macchina fotografica che mi permetta di mettere a registro le foto. Ciao ingegner, come te stai? E un po' che sei qui domingue, eh? Ciao, Renato, stai che bisogna. Ho un lavoro per un artista come ti. Dovresti inserirmi nel dorso della mia nipola? Uno di questi due vetrini smerigliati. Eccolo qua. Che devi fare? Devo fotografare la Milano come era nel 1943 e come è adesso. Perché hai bisogno di un vetrino smerigliato? Eh sì, perché io non conosco una macchina fotografica 24x36 che abbia un controllo attraverso il vetrino smerigliato. Però te vorrei duplare la macchina chi? Sì, adesso ti spiego. Io ho delle fotografie delle strade di Milano durante i bombardamenti del 1943. Il fotografo ha fatto queste fotografie con una 24x36, una Leica, ora io vorrei rifare il percorso che ha fatto questo fotografo e fotografare gli stessi luoghi. Adesso capì. Fai vedere. Sì, forse che sta. Però a me mi pare un lavoro sciapalente. Ti pensi che no? Tu mettimi il vetrino smerigliato che arresca pensimi. E? Tu 묻i. Grazie.